Ciao, benvenuti a tutti, tu da metà, finalmente di nuova collonica. Che vero, Isabetta, dopo due anni di stop ci ritroviamo ed è sempre una gioia. E con me queste ragazze, queste panciulle fantastiche, e voglia che siano panciulle, delle ragazzine, e mi hanno chiesto, ma Mari, ma che dici, la maglionese vegana? E' vero? E' tutto l'altro si è stata vegana, come sai, iniziali. Ora ritorno. E lei ha detto, dopo la maglionese ritorno, speriamo di riuscire nell'intento, perché qua io ho chiacchiato in giro per il campeggio, tutte noi abbiamo recuperato qua un frullatore a dimensione, e poi qua abbiamo Elisabetta che è una professionista, perché lei è uno chef famoso, e poi qua abbiamo una bottiglia, mi sono insomma inventata questo contenitore, al caffèggio ci si arrangia, per gli ingredienti di questa maionese vegana abbiamo bisogno di olio di girasole o di semi o di mais, come preferite, 80 ml, 30 ml di latte di soia, l'ho sempre provato con latte di soia, mai con latte di mandorla, un pochettino di curcuma, un pochettino di sale, un cucchiaio di limone spremuto o un cucchiaio di aceto bianco. Inoltre, se avete la possibilità di un cucchiaino di mostarda o senape, ci sta proprio bene. Noi qui in campeggio non l'abbiamo provato, ci abbiamo solo la curcuma, quindi iniziamo. Aggiungiamo nel nostro bicchiere, qua c'è un bar da campeggio, un piccolo amico, certo. Una vegana, no, se no non è vegana, con l'insetto. Un po' di proteina. Un po' di proteina. Sperando che venga, io ho dei dubbi perché le misure sono a occhio, proprio un goccino di sale. Ancora, non vedo manco. E poi per dare un colore bellino, mettiamo tutto subito. Un po' di curcuma. E via! Si parte! Un, due, tre, stella! Speriamo nel gusto, ragazzi. Scusate, io devo subito assaggiarla, eh? Assaggio con un finocchio. Not too bad, direbbero gli inglesi, non così male. La senape gli dà un quel tocco, però a me non dispiace, ragazzi, forse ho fatto un eccesso di sale. Sì, perché non si vedeva bene. Brava, andate voi. Ah, io sono quelli a te. Vedi cosa vuoi? Io la carota. La carota, vai. Hai ragione, ha l'elisabetta. Mettilo in questo. Mettiamolo nel bicchiere, facciamo questa cosa un po' più elegante. Troppo salata, secondo me. Poi io sono una noiosa e non mi sta mai bene nulla. La rifacciamo. Eh certo. E poi rigiriamo un altro video. Ok. Vai. Buona. Non è troppo salata, cioè non è giusta. Sì, va bene. Molto buona. Buonissima. Ti piace? Buona. È buona. È buona. È buona. Very good. Very good. Oh ragazzi, mi sa che... Non è perfetta. Certo. A me piace anche. Bernardo, vieni. Giusto, mi sa. Abbiamo anche un bambino. Spendiamo cosa è un bambino. È buona. È buona come la no. È buona. È buona. È buona. È buona. È buona. Oh bene, bene. Vai, vai, vai. Molto buona. Bene, sono contentissima. Tutto sommato con gli ingredienti così ho... Ho due agli. Ho due agli. È venuta bene. Oh, anche il farbo vuole assaggiarla. Com'è? Fa veramente. Mi devi fare la gola. Allora, ti piace. Ragazzi, per oggi è tutto. Buona maionese a tutti. Buona maionese vegana. Buona maionese vegana a tutti. Ciao. Ciao. Like this video. Yeah, like this video. Like this video. Buona maionese vegana. 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 Grazie a tutti.